Salve a tutti amici, sono Mario Balì, sono il fondatore del canale Assi e Bilancieri e quest'oggi, metto a posto un po' questi quattro capelli che mi sono rimasti dicevo, quest'oggi vi parlo dei nuovi modelli Panerai una casa che non ho mai trattato, nuovi modelli Panerai soprattutto quelli per l'anniversario dei 70 anni perché c'è qualche novità particolare sulla garanzia e quindi è giusto che ne parliamo, anche per far luce come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, a mettermi like se il video vi piace, se lo trovate utile, contattarmi al numero whatsapp che vedete apparire qui sotto, tramite mail o tramite la chat telegram, come sempre vi ricordo che solo chi ha una storia da raccontare può essere raccontato, a voi il video sui Panerai del 70esimo anniversario come certamente saprà chi mi segue da un po' di tempo ho una chat telegram con circa 300 iscritti 300 partecipanti e tra questi 300 chiaramente ci sono giovani collezionisti ci sono persone leggermente più mature e più attempate e quindi più smaliziate potremmo dire che chiaramente vedono l'orologeria in una maniera molto particolare qualche settimana fa mi mandano un link relativo a questi orologi di Panerai dei 70 anni per il 70esimo anniversario con una garanzia addirittura di 70 anni in prima battuta qualcuno aveva compreso che si trattava di 70 anni di garanzia legate al fatto che l'orologio non necessitava di revisione per tutto questo periodo dando materiali autolubrificanti materiali ad altissima resistenza e quant'altro ho fatto una ricerca sul sito di Panerai chiamato al centralino Panerai e lasciato un messaggio affinché mi contattassero per avere maggiori delucidazioni su questo tipo di prodotto mi chiama una gentile signora di domenica pomeriggio quindi veramente assistenza a clienti e persone interessate di livello assoluto non so se qualche altra casa mi avrebbe anche calcolato di striscio come si dice e quindi mi chiama e dice che è a mia disposizione per darmi qualsiasi tipo di delucidazione le faccio qualche domanda in realtà atta a capire di cosa si trattava cosa copriva questa garanzia di 70 anni e copre come normalmente accade per tutti gli oggetti copre difetti di funzionamento dovuti chiaramente a difetti di fabbricazione è anche giusto quando le ho chiesto però come intendevano affrontare questo periodo di 70 anni di garanzia devo essere sincero non mi ha saputo rispondere e umilmente si è ripresa il tempo per ricontattarmi il giorno successivo per spiegarmi bene avrebbe chiesto in sede visto che insomma lavora alla boutique a Firenze avrebbe chiesto in sede di che cosa copriva questa garanzia e come in effetti questo periodo di 70 anni veniva affrontato mi contatta qualche giorno dopo sempre molto gentilmente in effetti mi dice che mi ripete quasi la stessa storia quindi in effetti che l'orologio è coperto per 70 anni che Panerai ha assunto questa grossa responsabilità che poi se vogliamo è così la garanzia copre difetti di funzionamento eccetera al che io chiaramente le ho chiesto se questa garanzia di 70 anni chiaramente legava gli interventi di manutenzione ai centri autorizzati Panerai mi spiego chiaramente se io devo garantirti un prodotto posso garantirtelo soltanto se lo seguo io personalmente quindi se gli intervalli di revisione li faccio io se eventuali problemi te li risolvo io quindi ti copro quest'arco temporale abbastanza lungo al che lei mi dice nel senso che non aveva capito bene non sapeva bene e mi paventava una sorta di pacchetto di revisioni incluso nel prezzo dell'orologio al che le faccio notare che chiaramente non era economicamente possibile questa cosa perché? perché in effetti garantire un tagliando ogni 4-5 anni come loro consigliano sul loro sito presso una boutique Panerai per tutti i 70 anni della durata della garanzia almeno equivale a circa 14 service nell'arco della vita dell'orologio 14 service a un prezzo minimo perché chiaramente si tratta di movimenti basici a un prezzo minimo di 500 euro l'uno sono circa 7.000 euro soltanto di service escludendo tutte le varie spese intorno quindi materiali di consumo eccetera eccetera che io ho detto che probabilmente non era così parlando di nuovi orologi Panerai io devo essere sincero è un marchio che non ho mai preso sinceramente in considerazione ma non perché siano orologi fatti male sono orologi che hanno avuto una certa ascesa nel modo di presentare l'orologio nel modo di fare marketing che somiglia oggi molto a quello che è Rolex ma se non altro per gli sconti che loro praticano perché mi sono informato per un eventuale acquisto e mi ha detto che il massimo proprio che fanno in via eccezionale è il 5% benché ci sia disponibilità degli orologi quindi però non l'ho mai considerata come marca perché un po' le dimensioni esagerate di questi orologi 45, 43, 44, 48 effettivamente per il mio polso sono troppi quindi in effetti avevo visto, avevo adocchiato un modellino che poteva piacermi che era il Radiomir base che vedete in queste immagini che è un 42 e che costa di listino circa 6.500 euro quindi calcolando un 5% di sconto comunque sono necessari 5.700, 5.800 euro per portartelo a casa che non sono proprio pochi soldi visto che comunque è un orologio che pur mantenendo le quotazioni non acquista tantissimo valore vabbè, fatta questa piccola parentesi devo essere sincero gli orologi qualitativamente sono validissimi e poi il fatto di voler dare un'impronta italiana a questo marchio pur essendo stato venduto nel 1997 a un consorzio svizzero va bene perché comunque l'orologio rimane tra virgolette nei concetti italiano parlando dell'ultima novità per i 70 anni di Panerai abbiamo tre, secondo me, punti su cui ragionare allora il primo è questa garanzia di 70 anni mai un costruttore si era spinto tanto avanti però nel marketing di questa garanzia di 70 anni lei mi diceva che erano pochi la persona mi diceva che erano pochi esemplari quindi voglio dire non era su tutta la produzione però comunque un onere abbastanza importante ma capirete che fare service a un orologio per tutta la durata della garanzia in effetti e garantirtelo per 70 anni non è che ci vuole tanto nel senso che chiaramente se tu mi dici che i malfunzionamenti dovuti a un incauto uso a un evento accidentale comunque sono a carico del cliente e tu garantisci contro il normale funzionamento nel frattempo io personalmente ti curo l'orologio potevano dare pure una garanzia di due secoli non era un problema forse il problema era legato forse più alla fase temporale dei due secoli dei tre secoli cioè tra tre secoli parerà a esistere ancora non lo sappiamo quindi questa era la cosa però capite che un orologio un orologio che viene seguito dalla casa madre è naturale è naturale che possa essere garantito perché è un qualcosa che io conosco qualcosa del genere l'avevano già fatto le case automobilistiche per esempio Kia innanzitutto davanti a tutti dando sette anni di garanzia ma i sette anni erano relativi ai tagliandi presso la casa madre quindi una vettura seguita dalla casa madre e usata normalmente può durare anche vent'anni cioè la garanzia la puoi estendere anche a vent'anni quindi non è voglio dire che hanno fatto però chiaramente il fatto di leggere settant'anni di garanzia lascia un attimo spiazzati quindi la garanzia che loro danno non è su un funzionamento ininterrotto per settant'anni cioè non è che tu compri l'orologio e per settant'anni lo dimentica al polso no anche perché in effetti è un orologio che nasce subapeo nasce per gli ambienti ostili ambienti salini e sarebbe da come dire da folli pensare che una guarnizione in gomma possa tenere settant'anni l'acqua salata sarebbe da pazzi oppure che un lubrificante usato per lubrificare il meccanismo possa tenere settant'anni quindi la garanzia non è di funzionamento ininterrotto per settant'anni ma è una garanzia che copre contro i malfunzionamenti dovuti al come dire a difetti di fabbricazione di progettazione eccetera quindi garanzia di settant'anni però con qualche malattia con qualche clausola ricerca dei materiali lì secondo me Panerai ha fatto una bella cosa perché ha studiato un tipo di metallo il carbotech mi sembra si chiami che per il 70% più leggero dell'acciaio e addirittura il 50% più leggero del titanio quindi questo cosa vuol dire vuol dire che tu avrai un padellone da 46 mm al polso ma sarà anche piuttosto leggero infatti mi parlavano di circa 90 grammi di peso che per un orologio di quelle dimensioni aiutano molto perché favoriscono la portabilità quindi su questo ottimo buono hanno investito sui materiali ottimo poi ha anche delle ottime caratteristiche meccaniche non so per eventuali ripristini o come dire restauri estetici cosa possano fare su questi materiali ma credo che una casa come Panerai che vanta una storia così lunga abbia calcolato anche questo anche questo problema che ci potrebbe essere la terza cosa che a me non piace che a me non piace ve lo dico proprio apertamente è il voler dotare tutto l'orologio tutto l'orologio del materiale luminescente usato per le sfere una cosa che ha reso famosa Panerai nel mondo se leggete la storia di Panerai saprete che addirittura in tempi di guerra il materiale che usava Panerai per la luminescenza dei suoi orologi veniva messo sui mirini dei fucili sui mirini delle armi per puntare di notte perché con pochi secondi di luce restituiva una luminescenza eccezionale allora io dico una cosa un orologio del genere che vediamo nelle immagini che si illumina che può essere bello può essere una trovata però però immaginatevi un attimo innanzitutto come dire appariscenza a gogo quindi se vogliamo oggi la società è quella dell'apparire non quella dell'essere quindi apparire va bene mi compro questo Panerai con tutto sto materiale luminescente sparso dappertutto 5 secondi di luce si illumina ok benissimo pochi pochi orologi di quella serie speciale finiranno sott'acqua quindi voglio dire ma ditemi una cosa onestamente avere la visibilità della corona meccanismo per accedere alla corona in un ambiente ostile quale potrebbe essere l'acqua salata o in profondità in immersione a che cosa serve visto che se io la apro entra l'acqua nell'orologio quindi non è che questa visibilità possa servire a tanto vabbè può servire al buio ma che bisogno c'è di dotare anche le cuciture del cinturino di questo di questo sistema di luminescenza cioè mi immagino uno un professionista che acquista questo orologio lo indossa e poi sta tornando a casa nel buio di un garage di un parcheggio di un vicolo quello che sia è un malintenzionato che vede sta cosa al polso da 200 metri e gli va addosso e insomma e gliela porta via quindi reputo abbastanza reputo abbastanza inutile questa caratteristica di questo orologio di questo Panerai di avere tutta questa luminescenza però chiaramente è bella da vedere è una trovata nuova chiaramente io capisco anche che le case debbano fare qualcosa di nuovo per invogliare gli altri ad acquistare soprattutto a spendere più di 10.000 euro di orologio ed evitare di farlo propendere per altri farlo andare in altri didi quindi ti devi come dire inventare qualcosa mi immagino mi immagino soltanto il mondo del fake come si starà muovendo per fare questo cinturino con queste cuciture con materiale luminescente sopra questo orologio di imitare la cassa mi immagino solo cosa stiano stiano inventando e poi fra qualche anno avremo tutti il tumore sulla pelle perché vai a capire che materiale hanno usato parlo sempre dei fake ovviamente quindi davvero c'è tanto per il resto per il resto mi sento di dire che Panerai sta facendo un ottimo lavoro allora quindi ricapitolando assistenza al cliente io direi eccelsa perché questa persona che mi ha chiamato per tre volte di cui una la domenica pomeriggio poteva anche diciamo tra virgolette importarsene perché io ho fatto la domanda sul sito sulla chat del sito e mi sono presentato come probabile possibile acquirente ma vi dico che sono anche interessato a qualche modellino non quello del settantesimo anniversario perché per me è troppo appariscente ma un radio 1000 da 42 mi piacerebbe devo essere sincero ci sto facendo un serio pensiero poi quando la persona mi ha contattato mi sono qualificato nel senso ho detto che sono appassionato che ho un canale youtube e che quelle informazioni sarebbero finite su un video youtube divulgativo per far capire alle persone visto che loro sul sito non è che ti spiegano tanto perché tu trovi alcuni orologi dicono garantiamo 24 mesi l'orologio secondo la conformità europea quindi 24 mesi canonici poi dicono che i service loro li garantiscono 24 mesi quindi le loro revisioni li garantiscono 24 mesi e poi mi dicono che l'orologio è garantito 70 anni ma senza far comprendere bene ecco perché c'era stata un po' di confusione ecco perché qualcuno aveva compreso che i 70 anni erano ad orologio giuso sigillato senza aprirlo ma vi ripeto non è assolutamente possibile i lubrificanti di oggi possono arrivare a 6-7 anni massimo 10 se l'orologio non è utilizzato in condizioni gravose ma 70 anni sono tantissime è come avere una macchina con il cofano chiuso e farci 300.000 km si ok ci arriverai ma chissà come ma 70 anni per un orologio sono tantissimi quindi sfatiamo questo mito Panerai non ha detto che gli orologi erano sono garantiti 70 anni senza interventi di manutenzione ma loro si assumono l'onere di coprire con una garanzia di conformità e di funzionamento di buon funzionamento l'orologio nell'arco di un periodo molto lungo che è 70 anni con chiaramente i service fatti da loro perché io mi assumo la responsabilità ma di un prodotto che seguo io e secondo me è anche giusto adesso lo so state aspettando le mie considerazioni finali e ve lo dico subito tra l'altro vi dico la verità l'assistenza clienti Panerai non l'ha neanche tanto nascosto ma perché è giusto perché chiaramente l'orologio lo faccio io lo produco io lo progetto io me lo manutenziono io e ci faccio quello che voglio diciamo che sostanzialmente è così poi ognuno compra ed è libero di fare quello che vuole dietro la trovata di dare questi 70 anni di garanzia faccio un po' di dietrologia senza aver paura di essere querelato da qualcuno ma potrebbe succedere ci sta e leggo leggo che Panerai ha voluto fidelizzare se mai ce ne fosse stato bisogno ancora di più i suoi clienti perché questo perché chiaramente legare un cliente per 70 anni con i propri servizi significa assicurarsi che 200 orologi 100 orologi quelli che produrranno saranno revisionati da loro per i prossimi 70 anni i prossimi 14 service loro ce ne hanno assicurati va bene quindi fate un leggero calcolo se mettete 500 euro a service ah a proposito i materiali soggetti a usura sono a carico del cliente quindi vuol dire che nel service la quota chiesta è per una revisione diciamo ordinaria però se c'è da cambiare non so la ruota scappamento l'ancora quello che sia è a carico del cliente quindi ipotizziamo 500 euro di service per 14 service abbiamo detto che sono 7.000 euro fatelo per 100 orologi 90 orologi quello che saranno e capirete il business che c'è dietro poi diciamoci la verità una persona che acquista un Panerai limited edition 70esimo anniversario lo paga più di 10.000 euro non è uno che si fa tanti problemi a spenderne 500 ogni 4-5 anni per fare il service quindi loro hanno puntato anche su questo diciamoci la verità non è che lo vado ad acquistare io che sono stipendiato e togliermi 500 euro dallo stipendio diventa un peso e quindi lo faccio fare all'orologiare sotto casa quindi c'è da dire anche questo se vogliamo è un mondo che sta man mano evolvendo proprio adesso la mail del consigliere Panerai allora leggiamo insieme come stanno le cose vediamo se mi hanno risposto visto che chiaramente mi hanno invitato a scrivere di nuovo alla Panerai ecco qui vedete gentile signor Balila ringraziamo per la sua email e l'interesse nei confronti di l'officina Panerai con riferimento alla sua richiesta la garanzia di 70 anni non copre gli interventi di manutenzione consigliate ogni 5 anni pertanto essendo gli stessi consigliati e non obbligatori anche se non vengono effettuati ma si riscontra una anomalia non dovuta alla negligenza del possessore dell'orologio urta caduta esposizione a temperature elevate eccetera la garanzia è comunque valida anche se gli interventi consigliati non sono stati eseguiti quindi devo dire devo essere sincero tutto sommato si comportano bene quindi sono consigliati ma non obbligatori però è chiaro che è chiaro che è un po' come dire io non sono obbligatori sono consigliati però se io lo apro e riscontro che il perno si è consumato perché non l'hai revisionato comunque la garanzia non lo copre quindi è una sorta di compromesso che loro cercano di trovare però chiaramente 70 anni sono tanti quindi abbiamo svelato che cosa copre la garanzia di 70 anni Panerai va bene e abbiamo fatto anche qualche considerazione sui nuovi modelli sui nuovi modelli per l'anniversario benissimo se il video vi è piaciuto lo sapete non ne faccio tantissimi però visto che mi era stato posto questo quesito abbiamo ho cercato di dare risposta con i dati ufficiali di Panerai e vi saluto vi invito sempre ad iscrivervi al canale cliccare like lasciare un messaggio contattare i miei numeri che trovate in descrizione e poi spuntare la campanella molto importante perché vi avvisa dei nuovi contenuti nei prossimi giorni posterò altro qualcuno ha visto i post che ho messo quindi c'è un pochino di carne al fuoco ci sono dei orologi molto interessanti e poi ci rivedremo con la vetrina stavo pensando anche di fare delle live qualcuna di tanto in tanto visto che molti le fanno e c'è anche un discreto interesse vedremo se ci sarà il tempo di farle va bene come al solito ci lasciamo con il nostro slogan solo chi ha una storia da raccontare può essere raccontato ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.